In compagnia di Giorgio Cecconi per parlare della sesta edizione della Mediolanum Baby Cup, anche quest'anno ci sarà la Virtus Cisterna, un torneo interessante che dura parecchi mesi. Diciamo che per i ragazzi è un grande divertimento, no? Sì, per noi ormai è una tradizione perché abbiamo partecipato a tutte e sei le edizioni con varie categorie, quindi era normale ripartecipare, anche perché dobbiamo difendere il nostro prestigio del titolo vinto l'anno scorso, quel 2008, quindi insomma è un nostro onore ripartecipare per cercare di mantenere questo risultato. La partecipazione è successo, credo che però l'importante sia far crescere soprattutto i ragazzi, no? Sì, a prescindere da questo, è normale, siamo stati contenti della vittoria, ma a prescindere da questo siamo orgogliosissimi di portare le squadre proprio per farle crescere, maturare e confrontarsi con tutte le altre società della provincia, ma poi il risultato è l'ultima cosa, insomma. Che cosa si aspetta da questa edizione, da questa annata della Mediolanum Baby Cup? Come tutte le cose spero che ci sia qualche cambiamento in positivo, perché ogni tanto è giusto anche magari fare quei piccoli appunti all'organizzazione proprio per cercare di migliorarsi, insomma. Io già parlavo con i responsabili, l'anno scorso c'è stata la situazione per esempio degli orari, che ogni tanto uscivamo un po' troppo fuori dal seminato, tornavamo a casa alle due, due e mezza, e quest'anno spero che perlomeno queste cose cambino un po', insomma.